Il posto Lecco per chi mi ha messo a disposizione in tutta Italia ma sono stato ben contento di venire qui sia per la città perché penso sia un ottimo posto, anche sicuramente molto raccolta ma anche per la squadra mobile perché non posso che dire bene il mio predecessore perché il dottor Catedro che lo conoscete molto molto bene ha fatto veramente un ottimo lavoro qui con la mobile infatti mi sento di avere una eredità pesante perché adesso riuscire a fare meglio sicuramente è molto difficile quello che posso dire è che ci metterò tutto l'impegno per fare bene visto che comunque gli uomini sono molto in gamba, il professore mi conosce meglio di me ed è sicuramente un ottimo lavoro mobile ma non lo dicono soltanto qui all'Ecco, non lo dice anche soltanto la procura lo dicono anche a Roma, allo SCO perché chiaramente i risultati che ci sono stati anche negli ultimi anni insomma sono importanti, come sapete meglio di me tutto quello che c'è stato sul deep web e anche a livello locale per ultimo questa attività al ferrotello insomma che ha avuto una sola risonanza e che ancora va avanti tra l'altro aspettiamo risultati ancora più importanti in merito a quell'attività